L'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitario Regionali, Agenas, in collaborazione con il Laboratorio Management e Sanità della Scuola Superiore Sant'Anna, ha prodotto un'analisi preliminare delle prestazioni effettuate dal Servizio Sanitario Nazionale, sia in regime ospedaliero sia in ambito di specialistica ambulatoriale, mettendo a confronto i dati dei primi mesi del 2020 in piena emergenza epidemiologica con quelli dello stesso periodo 2019. L'analisi sulla capacità di resilienza del Sistema Sanitario Nazionale nel suo complesso e delle sue componenti regionali durante il primo semestre 2020 mira a evidenziare quanto le regioni siano state in grado di mantenere l'offerta e l'erogazione di quei servizi considerati non procrastinabili, come ad esempio l'oncologia, e per le attività procrastinabili, ricoveri per esempio programmati, i dati relativi alla specialistica ambulatoriale e alla qualità del livello dei servizi. Quello che emerge è che le regioni e la pubblica amministrazione hanno reagito, ma ovviamente si evidenzia, un crollo delle prestazioni e sarà importante l'analisi del secondo semestre per verificare la capacità di recupero nell'erogazione. Tra le varie aree, quella oncologica e quella in cui le riduzioni di prestazioni sono state minori, con una grossa variabilità regionale dal 10% al 50%. Per quanto riguarda le prestazioni che sono state comunque erogate, per gli indicatori monitorati, si rileva un livello di qualità tendenzialmente allineato con quello del 2019. Si tratta di un utile spunto, come ha commentato il Presidente di Agenas, il Professor Enrico Coscioni, per tutti gli enti del Servizio Sanitario Nazionale impegnati nell'erogazione delle prestazioni in attesa dell'analisi completa dei dati 2020. Anche se in fase di impiena emergenza epidemiologica occorre infatti strutturarsi per programmare e organizzare il sistema verso la completa ripartenza di tutti i servizi per soddisfare i bisogni di salute dei cittadini, evidenzia in tal senso il Direttore Generale di Agenas, Domenico Mantuan. In ogni caso, come ha voluto ricordare nel corso della presentazione la professoressa Sabina Nuti, rettrice della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, davanti a uno tsunami imprevedibile quale il Covid-19, i dati del primo semestre dello scorso anno dimostrano che anche realtà duramente colpite dal Covid hanno tendenzialmente garantito ai propri cittadini l'erogazione di servizi essenziali, riducendo drasticamente quelli procrastinabili. E se è resilienza e anche capacità di organizzare le cure per riequilibrare nel tempo l'offerta, fondamentale sarà il monitoraggio nel secondo semestre 2020 e l'azione di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale.